... Cambiamo di soggetto quando parliamo adesso di Cunia Guero. Allora, come è stata la visita per vedere e visitare Benjamin? Che cosa ha parlato con Cunia? No, ho parlato con Cunia, sta molto bene al City, si è trovato uno squadrone, loro sanno che qualsiasi giocatore che entra in campo può fare la differenza, per quello lui sta tranquillo, io sono andato a vedere più che alcun a Benjamin che faceva tanto tempo che non lo vedevo, faceva tre anni, le ho portato il mio regalo e il mio amore, tutto l'amore che può avere un nonno per lui, perché con tre anni sapere che uno ha avuto una madre, uno ha avuto una moglie, ha avuto due figli, però Benjamin è tutto l'amore, tutto l'amore che ho avuto io in tutta la vita mia, in una piccola costitina, piccola, bellissima che si chiama Benjamin. E' bellissimo di sentire questo, ma anche noi e tutto il mondo ha sentito che Diego Maradona quando ha parlato con Cunia Aguero e anche Messi hanno detto che è meglio per Cunia di andare a giocare con il Real Madrid, è vero questo? No, no, è che io ho detto che è meglio giocare nel Real Madrid, credo che il Real Madrid ha bisogno del Cunia Aguero, perché non è un giocatore con il movimento che ha il Cunia Aguero. ...e la velocità di Aguero, per cui sicuramente il Cun le fa molto molto comodo a Cristiano Ronaldo, che se il Cun le muove tutta la difesa, sicuramente gli infatti li trova, sicuramente in Cristiano Ronaldo. ... 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 Grazie a tutti. Dio Go Maradona Conea Aguero Diego, adesso parliamo tutti i giorni di Lionel Messi, ma c'è anche un altro argentino che fa delle cose meravigliose e che gioca nel club del suo cuore, del suo amore, il Napoli e questo giocatore è Lavezzi. Che cosa ne pensi? Ma il Pocho io lo conosco moltissimo, è un giocatore fantastico, è un giocatore che è rimasto fuori dalla lista dei 23 perché io avevo bisogno di Palermo, però lui sicuramente era uno che poteva andare a Sudafrica. A me non mi sorprende perché Lavezzi già aveva delle condizioni incredibili in Argentina e dopo in Europa ha pulito delle cose che aveva prima, che non si lanciava molto in avanti, sempre faceva delle giocate o per destra o per sinistra. Adesso è un giocatore più completo, sempre sta guardando in porta, sempre sta libero, sempre sta bene fisicamente. Mi pare che sta facendo una grandissima carriera e soprattutto è un grandissimo ragazzo. Diego? Sì. E Leonel Messi, adesso nel mondo c'è Messi e c'è gli altri? Sì, sì, c'è Messi con tanta differenza, però questo non è nuovo perché io l'ho allenato e sapevo che sarebbe così per tanto tempo. Per quello il Barcellona è una grandissima squadra con un giocatore troppo differente agli altri che fa dei gol incredibili e che non vuole mancare mai. e questo è quello che mi piace più di lui, che sempre vuole giocare, sempre vuole stare vicino ai compagni, sempre sta presente. Per quello io sono tifoso sicuramente di Messi, perché vuole la pala come la volevo io. e secondo me è l'argentino che è la nostra bandiera. Grazie Diego Maradona, è un piacere ogni tempo di parlare con lei. Grazie Diego e io ti dico in bocca al lupo per l'UASL e anche per l'Ahli Club, perché qui a Dubai Sport noi abbiamo un amore per tutti i club di Dubai e dell'Emirati Arabi Uniti. Io la ringrazio tantissimo per l'opportunità che mi dà di parlare. Noi rispettiamo moltissimo a Lali, credo che sarà una grandissima partita, però le chiedo al tifoso del UASL che domani abbiamo bisogno di loro. sicuramente con loro nel stadio noi sicuramente potremo diventare una grande grande squadra. Grazie Diego Maradona e buona notte. Buona notte a tutti. Grazie 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 a tutti.